La seconda domenica di maggio è tradizione celebrare la festa della mamma. È una ricorrenza così un po' tradizionale ma penso sempre molto toccante perché vogliamo ringraziare le mamme qui presenti che sono tra noi ma anche le nostre mamme, ad esempio la mia, che sono già in cielo ma che da lassù continuano a guardarci e a prendersi cura di noi. E a nome di tutti vorrei quindi ringraziare tutte le mamme diciamo così naturali ma anche le mamme adottive, anche le donne che magari non sono riuscite ad avere naturalmente un figlio ma che sono madri spirituali, madri educative che si occupano comunque sono sicuro di altri bambini, di altri ragazzi, altri figli perché Dio desidera che ogni donna in un certo senso abbia una sua maternità. Grazie a tutte perché se noi siamo qui è perché c'è stata una mamma che ci ha portato nel grembo e ci ha partorito. Non posso non pensare anche alle mamme che hanno perso i loro figli in guerra le vediamo costantemente alla televisione piangere per le morti dei loro figli tra virgolette soldato oppure dei loro bambini colpiti dalla tragedia della guerra in un ospedale, addirittura fuori dalle incubatrici. Ecco, insomma siamo una grande preghiera, un grande abbraccio a tutte queste mamme così ferite. una preghiera anche per tutte le giovani, le ragazze che o che sono in attesa di un bambino o che pure desiderano diventare madri le vogliamo ringraziare perché i bambini che corrono per le nostre strade sulle spiagge, nei nostri parchi, che cantano, che giocano che si tirano l'acqua sono una gioia per tutti noi. La Chiesa celebra in questo mese di maggio la Madonna la Chiesa che è immagine della Chiesa veramente ci protegga tutti e protegga in particolare tutte le nostre madri. Buona festa a tutti! Grazie a tutti!